Buongiorno, la stiamo facendo, un puntello, però la stiamo facendo. Allora, stamattina siamo a Notre Dame, dietro di noi c'è Notre Dame, tra poco la andiamo a vedere. E adesso siamo su questa altra strada che costeggia quella di Notre Dame. Dietro abbiamo la Senna, oggi c'è un po' di movimento perché è domenica. Qui abbiamo questo bellissimo monumento che il presto capiremo cosa rappresenta. E qui giù c'è un po' di chiasso. C'è la stessa. Grazie a tutti. 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 Bello. Grazie a tutti. 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 Grazie.